buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video allora ragazzi uno degli acquisti che abbiamo fatto da action ma che ancora non vi abbiamo mostrato è proprio questa una griglia da tavolo ad acqua perfetta per il barbecue l'abbiamo trovata al costo di 20 euro quindi neanche più di tanto e in giornate come questa è davvero l'ideale Gabriele in realtà la desiderava da un po' e quindi ricollego anche al fatto che vi dissi quanto fosse utile la presa che Gabriele ha fatto proprio qui sulla penisola che vi avevo mostrato che vi avevo già mostrato e vi avevo detto che veniva comoda per quando Gabriele faceva le pizze col fornetto piuttosto che quando uno usa il frullatore ecc ma un'altra cosa veramente molto utile di questa presa è proprio poter fare questo sotto specie di barbecue da tavolo Gabriele nel frattempo sta prendendo una bottiglia di vino che questo è un prosecco no scusatemi un moscato secco che ovviamente abbiamo preso la nostra enoteca sabato quando vi ho portato con noi allora indubbiamente è ora di pranzo e volevamo registrare questo video direttamente con voi proprio per utilizzarla la prima volta in diretta insieme a voi guarda bimbo guarda bella adesso vi mostro anche la griglia la bottiglia con una bella rosa con una bella rosa arcobalenosa e questo vino si chiama l'incompreso questo moscato secco moscato vino preferito di mare praticamente esatto solo che a me piace dolce ok tanto che ha la più decente proprio che bellino me l'ha regalato che è molto comodo io non lo so usare comunque questa è la piastra è molto leggera veramente molto leggera pensavo pesasse di più guarda un po' bimbo questa è la vaschetta allora possiamo mettere un minimo di 3 litri aspettate che leggo il controllo è il massimo? no un minimo di 0,3 litri e un massimo di 0,4 litri pensate ma la scritta è al contrario quindi ho connesso un po' nel mentre che sistemiamo sistemiamo un attimo la griglia e attacco la presa e gabbo apre il moscato vi mostro anche che cosa andremo a mangiare oggi e che cosa appunto andremo a cucinare su questa griglia non mi ricordo se vi ho detto che è ad acqua ma spesso sì il che è anche l'ideale perché comunque non fa tanto fumo appunto a differenza del barbecue della griglia con la carbonella questa può essere utilizzata tranquillamente sia a casa sia ovviamente sulla veranda beh cin nel frattempo assaggiamo anche questo wow posso dire che qua sento il retro gusto di pesca buono fruttato per essere secco è un gran buono molto bilanciato l'acidolo con il fruttato allora vi sposto l'inquadratura così vi faccio vedere anche anzi ve lo faccio spiegare da Gabriele cosa andremo a mangiare oggi e poi montiamo la griglia insieme così vedete anche voi come si prepara allora c'è scritto prima di utilizzarla per essere un panno umido io non ho voglia di sporcare un panno quindi uso un po' di scottex e ho provato ad asciugare vero che è leggero? si guardate la comodità abbiamo attaccato la pesa qui quindi ancora grazie amore per avermi spaccato il pavimento e avermi messo la pesa sulla penisola però non si accende il cavo è abbastanza lungo sufficientemente lungo perché non si accende? ah no se accende ma non fa rumore io mi aspettavo un click però c'è una lucina rossa facciamo vedere la lucina rossa eccola qui questa è la lucina rossa e qui ci sono le varie temperature fino a 5 si io la metto al massimo perché voglio vedere a che temperatura arriva allora il piatto che perde sarà moglie c'è la marinatura comunque queste sono pancetta pollo costina e seppiolona l'ho fatta in stile coreano con gochujang che sarebbe una pasta di peperoncino fermentata piccantina poi ho messo zucchero di canna salsa di soia una mezza mela di quelle enormi dimmi ma ci va l'acqua però nella ghiglia se non metterò l'acqua adesso metterò l'acqua finisco l'idea poi ho detto la mela la cipolla dello zenzero giovane che non so in cinese come si chiama frullato put anche del vino bianco perché avevo finito sia il sa che il vino cinese tanto poi stesso frullato tutto e fatto a marinare mentre di qua per il mio amore seppioline una di queste mia normale gamberoni per lei poi una specialità io stile finta fiorentina spesso un dito comunque meglio di niente due fettone di carne e di pancetta che mangia la gab perché a me non piace la pancetta però questo è il pranzo ovviamente ci abbiniamo un po' di verdure ho fatto i fagiolini che sono solo da condire con un po' di aglio olio e aceto cos'è che ce l'ho scritto massimo a 0,3 litri? si vedi massimo 0,4 si ma se non copre neanche il fondo no no ma perché c'è il piano che non è in tavolo in piano in bolla vabbè sti cavoli ma secondo me ne devi aggiungere un po' di più perché secondo me ce ne sta di più a parte il fatto che è storta prova la gira così forse con una griglia con l'acqua che deve essere in bolla no ok è tempo è già calda è già tanto calda quindi tra un po' possiamo anche iniziare a mettere il cibo ma qui mettere più acqua tanto non è che questa che non esce no non credo bobo secondo me è proprio così e quindi oggi vi portiamo a pranzo con noi nella nostra umile cucina con questo nuovo acquisto cioè guarda che è bello poter mangiare con eh amore? si se non mi pare tutta la cucina che è un po' un disastro oggi vabbè stiamo anche cucinando pazienza comunque mi piace davvero tantissimo e sono molto contenta dell'acquisto che abbiamo fatto adesso vediamo anche che temperatura arriva e oltre su cosa ho sto limone? meno male a me piace a te si ti tolgo il limone dal piatto? no va bene va bene grazie allora è arrivata temperatura tra l'altro consuma 1200 watt quindi un kilowatt virgola due l'ora ovviamente quando arriva temperatura non è che continua a consumare comunque noi paghiamo 0,12 0,15 kilowatt quindi vuol dire che se lo accendo un'ora al massimo consuma 15 centesimi finiamo via la bellezza la bellezza allora la temperatura pensavo fosse un po' più alta comunque sui 200 gradi 220 ah 240 di me è ultra omogenea sulle asticelle è un po' fredda 130 rilascio ancora qualche minuto perché ci ho messo 3 minuti a scaldare magari rilascio giusto 5 minuti per vedere se si omogenea di più anche perché probabilmente la resistenza è in mezzo quindi ci sta che i lati scaldameno però magari per cuocere un po' più lentamente dopo averlo salato ci può stare vediamo ci metterò un po' mettiamo la mia sotterina e mettiamo anche il pollo dal lato della pelle ah no tanto non l'ho detossato non avevo voglia un po' quello bianco un po' quello bianco e un po' quello di... esatto diciamo facciamo la mia sotterina non ha visto accanto l'aceto però non fare i lati la ragazzo una punta di pazzanico non è più caldo è più caldo è più caldo caceto è molto buono il pazzanico lei ha già soggiato l'oligiale il buono lei ha chiestato senza di me lei ha soggiato senza di me C'è un po' di più, ci sono parenti, e che conoscevano se non vogliamo. E' un po' molto buon appetito E' un po' molto buon appetito E' un po' molto buon appetito A presto. Ah, scoppia! E' buona! Un pescino piccolo, sai che non vado matto per... Se dici che è buona, bisogna provarla. Non lo so prenderlo. Mmm! Mmm! Marinatura eccellente! Ok, se vuoi puoi provare altre belle consome. Qualcosa, una fecchilina. Andiamo. Il sale ce l'ho messo un po'. Un po' prima, ma non c'è che raggiungere. Il limone. Bella anche la composizione dei fatti del limone. Un po' prima. Un po'. Un po'. E' buonissimo. Anche come consistenza non è troppo... Mmm! Buona, mi piace la parte bruciacchiata, leggermente toccante. E' buonissimo. Consistenza, ma è consistenza... E' venuta bene. Mmmh! E anche perchè di solito può capitare che rimanga sempre un po' più durezza. E' un po' più bonoso. E' l'amaro. Assaggiano anche quella marinata. Mmmh! E' buonissimo! Un po' più... E questo limone ci sta bene! Mmmh! Perfetto o no male? Sì. O meglio, la marinatura cosa è quella preferisco per... La marinatura cosa è quella preferisco per... Per la tavola? Sì, anche io preferisco quella per la normale. Diciamo che la secca assorbe tanto la marinatura, quindi senti il gusto della marinatura con la consistenza che è buona, però come il gusto mi idrata la carne, ma non è un problema. Anche senza condimento, ne sale, ne limone, trovo che sia perfetto. Perfetto! 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 La cottura è molto! Ah! Grazie! Perfetto! Perfetto! La cottura non so se rende quanto sia umida, morbida, anche il grasso è rimasto morbido, è bella caramellata! Ah! Scotta! Perfetto! 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 Allora, o dopo la pulizia, io tra una criata e l'altro ho passato un pezzo di scotta, spiegato facendo attenzione a non suonarmi la vita e viene pulito che è una meraviglia adesso per pulirlo so che metti con un pezzo di limone che la leggenda vuole che sgrassi vi consiglio di usare le bacchette perché il limone sul caldo ovviamente li lascia vapore e il vapore mi sta un po' scottando e poi passo un pezzo di scottex tanto comunque prima che... vabbè ovvio che poi non va bene però appena finito finché calda sì anche perché comunque se no si incrosserebbe tutta e diventa più difficile da pulire oltre al fatto che non sappiamo tutto tolgo la presa, lo giro bisogna aspettare che si raffreddi prima di lavarla quindi se si raffredda con il grasso del cibo fa crossa e poi vi sti da pulirla allora non usate assolutamente la paghetta perché penso che sia ovviamente di folerato teflon se voi grattate il teflon potete prenderla e buttarla cioè adesso non sto esagerando però rovinate la griglia e si attacca nel punto in cui è legata quindi solo acqua calda, detersiva e poi spugnetta comunque è stato un perfetto acquisto comunque all'80% non so se si vede ma... ah sì, quanto non ci si vede è pulita ovviamente non riesco ad arrivare tra le fessure e le grigliette lo farò dopo anche perché adesso se no più stono no, non ci arrivo con lo scotto eh no, proprio dico quindi tolgo la presa e poi questo quando più tardi è freddo lo lavo con calma il sale? il sale l'ho messo un po' sopra il sale e pepe ok comunque ho passato tutto il pranzo praticamente arriva a dire a Gabriele quanto questo sia stato un acquisto fenomenale non ce ne pentiamo affatto e poi appunto per 20 euro direi che con l'uso anche che ne facciamo noi va più che bene mi sa che lo useremo spesso perché... si non c'è tantissimo d'ora in casa ma al minimo c'è però non è che ci sia tanto fumo no al minimo c'è perché ho usato la marinatura con il zucchero che ovviamente un po' di crosta fa ma mi sa che lo useremo molto spesso anche perché comunque consuma meno del pieno induzione, è divertente è molto divertente e poi fa la crosticina e altra cosa, il pesce almeno per quanto riguarda le seppioline quello è mio? questo è troppo grande per me per quanto riguarda le seppioline stupende, cottura eccezionale e anche i gamberi si, i gamberoni sono venuti perfetti ora sa già... è troppo però per me ma noi non siamo obbligati a mangiare tutto no, infatti mangiamo stasera mangiamo stasera con i pomodori poi in realtà come ho detto prima che fosse secondo me un difetto ma in realtà è comodo che poi diciamo i bordi abbiano una temperatura più bassa perché almeno come la penso io la carne soprattutto il pollo che spesso ha tempi di cottura più lunghi io lo cuocio sempre a temperatura infernale più alta è meglio è in modo che rosola bene tutto le faccio proprio la crosticina e poi lo metto nella parte con la temperatura più bassa anche quando cucino alla griglia col carbone perché vi assicuro che facendo così in maniera molto ignorante avrete un pollo che è al 100% sul coso e fare in questa maniera avere un pollo secco verrà impossibile ve lo assicuro tu invece non puoi capire quanto sia buona questa carne ho ritagliato un nervetto che è una parte preferita ed è buonissima ma anche la carne in sé per quanto vediamo l'apse da Fiorentina sia ben cotta la carne perché non l'abbiamo lasciata al sangue è comunque morbida buona, succosa non è affatto secca ha mantenuto bene tutti i liquidi è morbidissima si come cottura l'ho fatta media nel senso non ben cotta ma che abbia un minimo di rosa dentro perché se no diventa una suola tanto anche per i bambini sicuro perché una volta che dentro è appena 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 rosa comunque in realtà è cotta certo poi stavo anche dicendo a Gabbo prima adesso questo acquisto non era previsto però il fatto di aver allargato la penisola mangiando appunto se vogliamo fare una grigliata così al volo a tavolo eccetera è molto comodo anche se abbiamo persone a casa, ospiti a casa, amici e parenti che siano perché la griglia comunque sia è ingombrante per quanto è piccola e compatta comunque avrebbe già tolto a prescindere due posti dall'altro lato così facendo la griglia comunque può stare perfettamente al centro del tavolo ognuno si può cuocere quello che vuole e dall'altro lato della penisola che c'è ancora il prolungamento si può mangiare molto comodamente senza avere tutti gli spazi calcolati diciamo che per quattro persone se si cazzeggia si parla va bene perché una persona in più poi è piccola beh no ah quattro persone va bene cinque già è succosissimo ecco io per meglio intendo non metta a fuoco tu devi avvicinare intendo questo vediamo ecco rosa vabbè dal video sembra molto più rosa perché in realtà il colore è tipo il rose beef nel senso che è più grigio vabbè dico grigio per farvi capire che è rosa però così il risultato assolutamente garantito poi il vino di accompagnamento anche il grasso che l'ho fatto si il vino di accompagnamento che abbiamo scelto che appunto delle nostre enoteca di fiducia questo moscato secco l'incompreso ci sta veramente tanto tanto da dio è fruttato è fresco e va un sacco a sgrassare tra un boccone e l'altro si non è affatto da mal di testa da capogire è veramente molto buono noi ve lo ripetiamo ogni volta se andiamo da Ale a prendere il vino un motivo ci sarà oltre alla compagnia eccetera ma soprattutto per i prodotti di qualità e già che ci sono ne approfitto anche per ricordarvi che la nostra enoteca fa anche spedizioni io ovviamente giù in infobox mi lascio comunque sempre il link di riferimento della pagina instagram della nostra enoteca credeteci se vi diciamo che per quanto riguarda vini vini oli formaggi salumi piuttosto che miele si miele ho preso la brochure perché tipo 10 tipi di miele diversi talassaco castagne molto particolari ce l'ha qualunque ieri ho ricomprato il capocollo perché è una roba bestiale e l'anduia soprattutto e l'anduia l'anduia santa anduia ci sono un sacco di prodotti che veramente valgono e ricordiamo che sono tutti prodotti che vengono da piccoli artigiani e sono tutti molto ricercati sono prodotti che non esistono o comunque non ci sono qui a torino almeno da altri fornitori ieri abbiamo ricomprato la marmellata di fichi perché è una roba micidiale io l'ho presa anche dell'alcenero perché ha il barattolo un po' più grosso ma per quanto è l'alcenero sia tra virgolette un po' più costosa più bella sonata ma quella di Ale la trovo più buona assolutamente poi la compagnia fa non ci guadagno niente quindi non è che mi paga se di più che cosa perché noi abbiamo lo sapete ve lo dico ogni volta abbiamo proprio una bellissima amicizia un bellissimo rapporto con Alessandro e lì siamo proprio di casa poi per carità se possiamo indicare qualcosa di gustoso anche solo per chi abita qui nei paraggi insomma benvenga perché la qualità si deve apprezzare tra l'altro avevo postato in community loro lo sanno glielo avevo anche parlato il fatto che Ale è uscito sulla rivista avevo pubblicato anche l'articolo dove tra l'altro ci siamo anche io e Piero con le candele e niente ragazzi allora oggi vi abbiamo voluto portare questo pranzo proprio per testare la piastra con voi mostrarvi quest'altro acquisto ah la marca l'hai detta? no non l'ho detta la marca è della Tristar perché se non sbaglio abbiamo anche la frigitrice della Tristar quel frullatore non mi ricordo ecco sotto è la non ti voglio rivedere ma magari è che è in storia sì ed era Tristar eh era già in memoria che avendo un sacco di elettrodomestici a 20 euro un po' come dire la Dexter dei Trapani nel senso la forte qualità prezzo eccellente sì 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 assolutamente niente detto questo ragazzi fateci sapere se anche voi avete acquistato questa piastra barbecue ad acqua da Action e perché no fateci sapere se c'è qualche articolo secondo voi che da Action vale la pena acquistare noi ci vediamo nel prossimo video vi lanciamo un bacione grandissimo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti